Tutto è bella Ciao tesori Buongiorno E benvenuti Allora Benvenuti nel My Morning Banana My morning banana Banana Nel my morning routine Yeah E' una my morning routine Reale perché E' una vera morning routine Di quando andiamo a scuola O per lo meno di com'è Di solito Così mi molla il dito Speriamo tanto che vi piaccia E' veramente quello che facciamo noi Di solito c'è Ale che porta giù i cani E intanto io porto giù lei Cioè la porto a scuola Ormai siamo organizzati così Quindi ecco quello che facciamo Davvero noi E abbiamo la sveglia Super super presto Eh lo so fa arrabbiare anche a me Ci svegliamo intorno alle sette e mezza Sei Diciamo dipende Io mi sveglio anche le sei molto spesso E la signorina qui presente non dorme tantissimo Quindi in realtà Beh non dormiamo tantissimo Però andiamo a dormire molto molto presto O meglio lei Io lavoro anche di notte Io non dormiamo Dov'è 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.